Seduta, te ci vado a trovare, io vado a prenderlo. Sento così? No! Seduta, tu puoi metterlo lì? Devo metterli a pesi? Sì, sì. Dai, facciate. Mi lascio di qua, di qua. Ho una sedia. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. A giugno devo lasciare la casa. Un 30 giugno. Per questa vengono con le persone per vedere la casa. Sono sette anni. Da sette anni. Dobbiamo trovare un'altra casa. Tornata è il conto per andare. Laузa è tutta la Rouge in un'om pierno. SeiCO,è un cuore? Sape la A. Di non sei quella della? Sì così. E ATP Grazie a tutti Grazie a tutti